I 19 sindaci dei comuni interessati dal passaggio della ciclovia adriatica hanno incontrato stamani a Pescara l'assessore regionale allo sviluppo economico e dal turismo Mauro Febbo per fare il punto della situazione sull'importante infrastruttura riservata alle durote e per evidenziare le criticità ancora esistenti. Per fare il punto della situazione per arrivare a realizzare un'infrastruttura importante sia dal punto di vista turistico e con tutto ciò che è collegato ma anche per essere usufruita per il trasporto pubblico locale, quindi convenzioni con Trenitalia, peraltro Trenitalia e Labruzio è una delle poche regioni dove non si paga il bagaglio ma comunque devono essere realizzate altre cose, soprattutto perché abbiamo l'opportunità di rientrare in un finanziamento che verrà discusso fra qualche settimana con le altre regioni dal Veneto alla Puglia ma il progetto più ambizioso e per cui abbiamo necessità di conoscere con attenzione quello che si può e si deve realizzare il progetto europeo. Abbiamo due ipotesi importanti, quella che ci dà la possibilità del collegamento Stettino-Pola attraverso Trieste ma quello ancora dove vorremmo esaltare il nostro Labruzio e vorremmo soprattutto esaltare la nostra capacità progettuale è quello di far rientrare questa pista ciclovia all'interno di un percorso che giri tutto, che percorra tutto l'Adriatico, quindi accordi non solo bici, ferrovie ma bici, ferrovie, nave. Credo che sia un progetto ambizioso su cui l'Abruzzo si deve far trovare pronto, ai sindaci abbiamo chiesto di capire lo stato dell'arte, ai sindaci abbiamo chiesto di darci qualche indicazione, chiediamo soprattutto anche uniformità nella morfologia, nella visione della pista perché poi ognuno l'ha realizzata a modo suo, invece noi dobbiamo fare una cosa omogenea, quindi stiamo lavorando velocemente su questo progetto. Dei 131 chilometri sono percorribili soltanto 85, ci sono delle criticità ancora presenti? Ci sono ancora delle criticità che dobbiamo assolutamente risolvere ma sono criticità soprattutto legate ai finanziamenti, all'ipotesi di ulteriori finanziamenti che arriveranno. La riunione di stamane, ha concluso infine l'assessore regionale Febbo, è stata propedeutica al tavolo nazionale convocato presso il Ministero dei Trasforti per il 19 maggio prossimo a Roma. Grazie.